Una periferia d'Europa, oggi centralissima, che diventa snodo da cui partono le connessioni più moderne. Il consigliere regionale di Avanti Basilicata, Braia, considera l'Hub di San Rocco, inaugurato a Matera dal ministro per il mezzogiorno provenzano e dal presidente nazionale del Consiglio nazionale delle ricerche in guscio, come un potenziale cuore di una smart city del mezzogiorno, una porta di accesso che dalla terza città più antica del mondo si spalanca verso il futuro. Grandi partner pubblici e privati che condivideranno iniziative progettuali per contribuire al potenziamento e alla realizzazione delle infrastrutture già presenti nel Lab per valorizzare giovani ricercatori e innovatori. Saranno in gioco, sottolinea Braia, i maggiori player mondiali della telefonia mobile, digitale e il CNR. Occorre ora connettere tutte le competenze umane e le migliori esperienze aziendali, ad esempio quello del polo spaziale, sicuramente da rilanciare per ruolo e funzione. Matera 2019 conclude Braia e anche e soprattutto questo. Ora bisogna solo sostenere nei fatti, tutti uniti, senza barriere ideologiche o politiche e assurdi campanilismi, la prosecuzione delle azioni.